ciao a tutti ragazzi benvenuti in una puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus io sono Ser benvenuti nel mio canale e ci facciamo partiamo perché non funziona se questo funziona ok what ah no infatti no 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 un attimo da qua si fa chissà perché era entrato lì ci facciamo una daily una daily con Sansone io non mi ricordo che fa questo oggetto ah sì l'alitosi ok scusate chiave non so che però faccio questa cosa ma la faccio ammetti che c'è qualcosa di interessante da qualche parte non ho mai visto sta cioè è molto simile alla stanza quella piena di cacche però mi mancava questo non riesco più a belenarlo qual'è il problema no questa mi ridà tutta la vita ci siamo presi il nostro HP vediamo se troviamo anche una bomba daim non ne ho visti quella è una roccia che si rompe con due bombe no perché mi sembra che è quello ok e buh ci manca solo questa ma non credo che ci sia niente di interessante no? no niente solo tantissime chiavi tantissime con un paio va bene si scende dovremmo avere un po' di cuori esatto danno infimo as usual facciamo lo salone gigante e prendiamo un danno del cazzo perfetto ha sparato due volte di fila sto fuoco no giusto per rendervi partecipi della cosa riguardate il video mettete indietro voglio PhD vediamo se troviamo una carta che ci permette di volare qua non c'è niente di tutto fa anche da repellente sto robo ma non posso prendere un danno porca troia schifo anche se va bene wow ah PhD si tanto vale prende danno perché tanto PhD ci dà almeno 2 HP quindi adesso lo prendiamo va bene speriamo che ci teniamo qui due decenti ah io non c'ho ancora bombe ma la mettiamo grazie di aver rettificato subito dice vorrei vorrei ma si sti cazzi dai sento va benissimo un po' di soldi li abbiamo fatti quello potrebbe essere un bonus steal però non sapendo qual è a meno che questo non ci dà un dime niente si scende un core brucio l'abbiamo cerchiamo di non perderlo se proprio ci riesce non perderlo saremo qua un mese grazie ai bombe dai perzori per favore non ti colpi almeno un veleno ogni tanto no figlio di puttana più vicino alla porta stronzo di merda testa di cazzo e chi più ne ha più ne metta dammi una cacca un po' dei stronzi ah non ci posso entrare no dai no devo fare un'altra stanza per forza o faccio un'altra stanza o trovo una tinted poi tanto ci sarà pip perché sti piani fatti così di merda sono sempre boss impossibili no oh basta disattivati vaffanculo per favore un po' di ok andiamo dal boss prima di prendere il danno a caso intanto tinted non ce ne so stanze segrete i livelli fatti così non capirò mai dove sono intanto voglio provare a sfruttare bobs rottenead vabbè qua è una stanza segreta sicura ma porca lontana testa di cazzo sì vabbè a morire eh che cazzo lo prendo dopo ci portiamo dietro un pertro mi ricordo mi devo ricordare da gazz eh che cazzo devi fa' qual è il tuo problema mentale non mi capi ok non mi capisci che cazzo devi fare qui cazzo devi fare ok da quando ne lancia tre questo mi piace ci portiamo giù da cazzo fastidioso mi sta bene mi può stare anzi quasi quasi aspetta un attimo spostala non hai spostato abbastanza aspetta un attimo mettiamoci un po' il danno così aspetta un attimo Grazie a tutti. Aspettiamo l'ufurelto. Non si sa mai. Vediamo qua che ci dici. Mi sta bene. Ecco un cazzo di casino. Ok. Ok. Che cazzo è fatto sto livello? Oddio. Ho sentito il rumore di chiavi. Di moneta. Va bene. E ciao. Ma chiaramente sparare a tre non è male. Soprattutto con questo danno. Il problema è che non so se basta. Ma sì ma tranquillo non mi dare... Vabbè devo cercare shop. Già ho capito. Cioè so dove lo shop in realtà. So anche che probabilmente ci sarà grid dentro. Però vabbè. Dettagliano. Cazzo. Per fortuna ho meritato lo stesso boss. Ok. Prendiamo una sequela di danni tipo di imbarazzanti. Ah sta partita. Non abbiamo avuto un aumento di danno. Uno. Perché 10 è il massimo che può raggiungere in un livello base Samson. Il Corso of the Lost. Eh ci mancava. Vai caccare vai. Mamma mia. Invece provo a schivare i danni ma... Oggettivamente non è facile. E vabbè allora inculami. Qua c'è... Quanti di ramazzini. Aspetta. Facciamo sta cosa. Caputana. Caputana. Ok. Ah merda. No. Nope. Nope. Ok. Il Corpo dov'è? Volevo cercare di segare il Corpo. Ma si può giocare... Ha un'agonia del genere. Secondo voi no? Umanamente no? Sì adesso mi sta nervosendo. Mi farò solo cappellate. Eh... Tua mamma. Guarda che mi dà una cazzo di bomba. Porca puttana. Porca puttana. Danno a boost. Dove è che bisogna arrivare? Troppo lontano. Allora, mica. È... Offissimo. Dona uno. Sì è rijptare. Sieppare. Qui giugano. Non lo sto, io... Poi spu Touss Now. Più Osso di değil vino... Mi farò anche che fin mola. Beh, non ti dà una runa su veda, no? Mi confondo. Ah, dici seconda. No, qui dovrebbe usarlo, ecco, magari con un champion, visto che due cariche ce le ridavi. Abbastanza sbagliata. Abbastanza sbagliata e non c'è neanche una tinta ed rock. L'odio. Se mi donassi un cuore blu non accetterei. E niente quello blu. Va bene. Va però, eh. Va bene. 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 Non volevo perdere troppo tempo, già. Siamo volenti con la mia merda. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. orbitale di danno. E solitamente io ci prendo danno. Con un orbitale di danno. E non fa neanche un cazzo di danno. Oltretutto. Ah, da sanguinamento. Ok, non lo ricordo. Non è proprio un orbitale di danno. È una mezza merda, in realtà. Ma sono morto. Non sono ancora morto. Strano. Non ho abbastanza cuori, però. Quindi o caghi tanti cuori in questo livello, o siamo morti. Penso che siamo morti. Devo poter schivare. Fammi levare sti robbi. Eh, varkatana. Tu lo so che adesso esci, spari a random, muoio. Bene. Ciao. È stato bello. Ci posso sapere che cazzo di buono... Ma vai a fare in culo, va. Che merda di partita. Va bene. Questo è quanto. Niente, ragazzi. Ci si sente alla prossima. Spero che il video non vi abbia fatto cagare quanto ha fatto cagare me. E... E niente. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.